Cesare Ruschel, qui al premio Anna Magnani per un'opportunità importante, ritirare un premio. Sì, ho il grande piacere di ritirare questo premio, tra l'altro legato a un nome che era molto amico, era molto amica di mio papà e quindi è doppio piacere per Francesca Pigianelli che lo gestisce e quindi mi fa un grande piacere perché siamo molto amici e per la grande Anna Magnani. Bene, in bocca al lupo. Grazie.